Ultimo sabato di shopping per gli aquilani prima del Natale, discreto movimento nel rinnovato centro storico dopo giorni di assoluto maltempo che ha condizionato di certo gli affari, spiegano tutti i commercianti. La gente ha approfittato per una passeggiata di sabato mattina e qualche regalo, anche se, come ogni anno, in settimana si attende di lavorare di più con i ritardatari. Le tredicesime sono arrivate, al regalo di Natale non si rinuncia ma la crisi punge, molto se ne andrà per le bollette e per cui la gente tende a risparmiare e punta sui regali più piccoli come libri, guanti o sciarpe o cappelli. Signora, lei sta facendo i regali di Natale? Sì, sì, sto cercando un cappellino per mio marito e cerco qualcosina anche per mia figlia. Senta, tredicesime, quattordicesime, ecco, com'è la situazione quest'anno? Si va un po' a risparmiare? Penso proprio di sì, io non lavoro, lavora solo mio marito, quindi dobbiamo darci da fare per risparmiare. Stamattina sì, molto movimento, c'è un fatto del tempo comunque, che fino a ieri pioveva forte, oggi è partita bene la giornata, parecchi turizi, molta gente di fuori. Ecco, regali di Natale, la gente tende a risparmiare, qual è la tendenza in questo senso? Beh, penso di sì, che un pochettino si pensi anche a risparmiare, però per il momento va, non ho fatto il rapporto con l'anno scorso, però va, sta andando abbastanza bene. Luminarie, il centro così addobbato a festa, che effetto fa? Beh, io sarò strano rispetto agli altri, a me piace tutto, piace, pure la giostra, pure la ruota panoramica, a me piace tutto, perché poi dopo tutto deve essere una festa per i bambini. Il movimento c'è, per fortuna da quando abbiamo riaperto, e diciamo grazie anche ai tantissimi eventi che organizziamo, il movimento cerchiamo sempre di averlo. Il libro sicuramente è un regalo ben gradito, e poi sicuramente il libro è con una cifra più che ragionevole, soprattutto in questi periodi di crisi, la media è di circa 15 euro, si fa un regalo che comunque di solito è ben accetto, è comunque un regalo che viene comunque apprezzato e ha la sua anche ottima presenza, oltre che comunque il libro è sempre una cosa bella da trovare sotto l'albero di Natale. C'è gente, sì, l'Aquila è viva, finalmente si è tornata a vivere il centro storico, la magia del centro ormai è tornata tra noi, per fortuna. Si tende un pochino a risparmiare, però visto che noi abbiamo comunque tanti brand in negozio, possiamo spaziare tra cappelli, maglie, sciarpe, quindi dipende dall'importanza del regalo che ogni cliente vuole fare.